Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Diego Spotere In questo video andremo a giocare a Humanfall Flat, un gioco nuovo sul canale ovviamente perché sto cercando di portarvi sempre giochi più nuovi Questi giochi però alcuni non li continuerò, come per esempio lo Slenderman che l'ho scritto in descrizione, che è uscito proprio oggi Domani uscirà The Escapist 2, però voi l'avete già visto perché sarebbe uscito ieri se questo esce mercoledì Quindi sì, cercherò di portare sempre più giochi, però alcuni non li continuerò Io continuerò, alcuni non li potrò continuare per via, per esempio di Portal perché magari se Colm non c'è io non è che posso stare dietro a Colm per registrare e altri perché magari mi andava di fare il gioco e non lo voglio continuare Comunque adesso basta parlare e iniziamo subito il gioco Questo gioco è il più ghiozzo di tutti che si può avere perché te sei un omino ed è la cosa più spettacolare al mondo Io adesso partirò facendo il primo livello perché ovviamente il primo livello va iniziato E nulla, partiamo subito Quindi noi siamo questo tipo, molto molto puccioso da come vedete Infatti è un terrorista E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine di questi livelli C'è un bidone della spazzatura che spostiamo E c'è una porta, perfetto Sto treno, boh, credo sia per abbellire Belli treni che passano da dentro i capannoni Ok, perfetto, quindi abbiamo fatto C'è una panchina, perché le panchine sono rovescate? C'è un treno là, una panchina qua Io che non si capisce manco chi sono Va bene, mi dicono che questo gioco è bellissimo Ok, quindi devo cercare di oggetti Così da far passarmi, cioè per farmi spazio per l'entrata Ok, quindi spostiamo subito questa roba Ok, che poi non si capisce manco cos'è Per favore rimani lì, non ciò sbatti di fare tante cose Perfetto E adesso spostiamo anche te Finalmente Ok, dopo anni ce la farò? Non lo so Muoviti, per favore, non ho tempo da perdere Muoviti Gesù Cristo ce l'abbiamo fatto Passiamo al prossimo livello Ok, ho un'altra volta sti binari Sei veramente serio? Ok, vediamo un po' Secondo me qui bisogna fare qualcosa del tipo così Lo buttiamo? No? Ok, cosa bisogna fare in questo livello? Non sto capendo Ah, ho capito Quando tu fai così In pratica il coso sotto si sposta Non chiedetemi con quale fisica di Newton E te puoi arrivare qua Perché il salto qua su sto gioco è molto lento Ok Siamo al prossimo livello di questo capitolo Ok, quindi Forse ho già capito che cosa devo fare Però, forse Sì, però se riuscissi a Ok, perfetto Andiamo Allora, ci attacchiamo alla parete E andiamo Sì, però stai calmo, eh Non ti attac... E la madonna Ok, ce l'abbiamo fatta Perfetto Siamo operativi Attento, attento, attento Ok, adesso dovrei riuscirci Un bottone Lo premo Muoviti Ok, perfetto Ce l'abbiamo fatta Adesso Il prossimo bottone Non bastava metterne uno Chi lo sa, va bene Una grata Non voglio entrarci Perché poi se mi ci baggo è un casino Andiamo a vedere qua sopra Ah, questo era il treno di prima Allora, vedete che serviva qualcosa? Io che sto sempre a dei pregiudizi Ok, quindi Io faccio così Non ci arriverò mai Infatti No, ok, nulla Cosa bisogna fare in questo livello? Vediamo un po' Allora Credo che... Sì, bisogna raggiungere la Ok Per poi andare al bottone Perfetto Allora, io direi subito Di spostare questa... Questo vagone Sì, chiamiamolo vagone Anche perché è un vagone E vediamo un po' No, nulla Io credo che bisogna andare qua sopra A sto punto Ho capito Sono Spastix Adesso quindi Noi dobbiamo Metterci qua sulla colonna Far spostare questo vagone Verso di là E saltare Fra un vagone e l'altro Come su Subway Surf E arrivare all'exit Suppongo Sì, ok, perfetto Quindi Andiamo Per favore Muoviti Ok Ma sei serio? Ma tu mi devi dire Sei serio? Che poi a posto di piedi Sembra che tipo Ci abbia Le coppette del gelato Però va bene Guardate poi la sua camminata Quanto è fiera Ok, andiamo Siamo arrivati all'exit E credo che abbiamo finito Questo livello Che dite Ne facciamo un altro? Ma sì, dai Facciamo un altro livello Tanto uno è poco Quando si finisce un livello Bisogna buttarci Come avete visto Ed eccoci qua Al prossimo Adesso Vabbè Questa è la cosa più facile Del mondo Si prende qui Si sposta E lo si mette Ok Ok Perfetto Il mio English Slash Spagnolus Slash Qualsiasi lingua Al mondo È bellissima Ok Comunque era Eccitelo qua Però vabbè E eccitelo qua Anche a te Ora se si toglie Ok Non si è tolto Perfetto Adesso Che cos'è? Un ascensore Forse Si ho già capito Si ho già capito Forse Allora Facciamo scendere Poi facciamo risalire Si Boh Andiamo Si ok Perfetto Titi Riti Meno male che c'è L'interruttore anche qua Sennò sarebbe stato un casino Ok Vediamo un po' di andare su Ok Prendiamo di nuovo questo Io Questi livelli L'avevo già giocati Con un mio amico Con Colm Lo conoscete Però appunto Erano in online Quindi sono differenti Da quelli del single player Allora Io mi sono buttato Come uno stupido Manco se ho Ok Ho già capito cosa devo fare In pratica devo Prendere qua l'ascensore Prendere il blocco E portarlo sopra Poi saliamo sopra il treno Mettiamo il blocco sopra il treno Cioè sopra il vagone Scusate E andiamo a Azionare il coso Quindi Intanto azioniamo l'elevatrice L'elevatore Vabbè L'ascensore Via E poi Prendiamo Questo qua E chi ce l'ha? Adesso Io spero su dio Che non casco Ok non sono cascato Ci attacchiamo No 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 Non ti permettere Qua come fai un movimento sbagliato Devi ricominciare tutto Quindi non ci conviene Andiamo avanti Ah ok il massimo Sono stupito Io Ok andiamo Lo sta portando Nell'angolo Cioè lo sta portando Da un angolo Ma va bene Non ti preoccupare Ma Ma con quale fisica Nel mondo Mi stai dicendo questa cosa Ci siamo Ci l'abbiamo fatta Siamo operativi Andiamo Adesso Riprendiamo qua la manica La manica Andiamo Ah abbiamo già finito anche questo livello Ok se magari ci riesco Eh nel senso Non è ancora detto Per favore Ok perfetto ci siamo Ok quindi anche questo livello è finito Va bene io direi di concludere qua il video Due livelli sono bastati Quindi ci buttiamo Questo sono io al concerto di Martin Garrix Ok quindi nel prossimo episodio farò questo livello Per questo episodio è tutto Io spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse vi ricordo di lasciare un like Iscrivervi al canale Noi ci rivediamo al prossimo video Bella ragazzi Grazie a Virginia